che profumo di pane fresco, pane appena sfornato siamo qui per un nuovo appuntamento in compagnia di Renato e Vania che sta girando per la cucina perché caro Renato, parole nel piatto, ci propone il secondo corso di cucina siamo partiti dai sughi, se vi ricordate, se ci avete seguito nella scorsa puntata arriviamo oggi alla preparazione del pane, come abbiamo appena visto Renato, sono tante le ricette che insegnate in questo corso oggi insegniamo prevalentemente la tecnica della maturazione degli impasti che serve per fare per noi le baguette e la pizza ad alta idratazione alta idratazione significa la quantità d'acqua che va oltre 700 grammi per ogni chilo di farina e che cosa ha di diverso dalla pizza normale? consente di ottenere degli impasti molto soffici, molto morbidi e molto digeribili passano mediamente un 15-20 ore in frigorifero a 4 gradi dopodiché vengono comunque lavorati senti un po', ma in un corso di cucina di circa un pomeriggio impariamo realmente a fare il pane? cioè noi andiamo a casa e siamo in grado di fare il nostro impasto infornare, riuscire a mangiare qualcosa che poi ci piaccia anche? sì, tutti i partecipanti si occupano di fare gli impasti di fare le lievitazioni e tutte le formature che necessitano alla preparazione del prodotto poi so che c'è anche il vostro pane arabo il pane arabo tendenzialmente è un impasto piatto e sottile a noi invece piace molto che cresca il centro per cui diventa una sorta di semisfera all'interno vuota c'è qualcuno a cui non piace la pizza, a cui non piace il pane, io non l'ho mai trovato nemmeno io quindi diciamo che questo è un corso per tutti per tutti ti chiedo qual è il consiglio per fare la pizza perfetta, ovviamente per fare la pizza perfetta bisogna avere molta attenzione nell'impasto perché il 60% di una buona riuscita della pizza è l'impasto il 20% sono gli ingredienti che vengono messi sulla pizza che devono essere di buona qualità gli altri 10% è la cottura e gli altri 10% è la stesura della pizza sulla latta prima di poterci sedere effettivamente a tavola e degustare le prelibetezze cucinate oggi nel corso qui a Parole nel Piatto, Renato ci devi ricordare il prossimo appuntamento il prossimo appuntamento il primo di dicembre con i biscotti di Natale dove faremo alcuni biscotti tipicamente natalisti tipo di Speculus, il pan de pizza e alcuni amaretti molto 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 semplici che tutti possono fare segnate la data in calendario, primo dicembre, il corso si tiene sempre nel pomeriggio e Renato vi assicura che imparerete a cucinare dei biscotti perfetti da offrire ai vostri ospiti durante le festività esattamente noi adesso ci intratteniamo con le bontà preparate oggi, ci vediamo al prossimo appuntamento